Giorni difficili per Mara Venier. La presentatrice Rai è attualmente ricoverata in una clinica romana. Su Instagram la conduttrice ha pubblicato una storia, rimossa dopo pochi minuti, in cui si vede che è a letto con una flebo. La settantenne non ha fornito spiegazioni e nella camera in cui si trova è da sola. Come rivelato dall'ufficio stampa di zia Mara a Today, il ricovero è legato alla recente operazione ai denti. Sui social network la Venier aveva spiegato che l'intervento era stato molto lungo, ben 7 ore. Molto probabilmente è subentrata in queste ore qualche complicazione che ha richiesto il ricovero in clinica. Nonostante tutto sembra confermata, al momento, la puntata di domenica in inonda su Rai 1 domenica 6 giugno. Grazie agli ottimi ascolti di questa stagione la trasmissione domenicale è stata allungata fino alla fine di giugno. L'ultima puntata andrà in onda domenica 27 giugno. Un grande trionfo per Mara Venier che, dopo alcuni anni trascorsi a Mediaset, è tornata ad essere la regina della domenica, battendo puntualmente l'amica rivale Barbara D'Urso e il suo domenica live su Canali 5. Archiviata qualche titubanza iniziale la venierà assicurato che non lascerà il programma il prossimo anno.